C'è un poliziesco divertente, una via di mezzo tram Miami Rice e Cips. Ma quando cominci? Domani. Domani? Ehi Oliver, hai ancora quattro settimane qui. Josh, questo è un serial, capisci? Oliver, questo è un film. Già, di basso costo. No, no, non puoi farmi questo. Esiste un contratto. Possiamo anche citarti. Ma non potete, ci vogliono i soldi. Josh. No, Arturo. No. Sì, sì, il liceo è rimasto chiuso da loro. Divertiti, calli. Diventerai una star, Oliver. Ma... Ehi voi, fermi dove siete. Ma che cosa stai faccio, hałem? Ho, danke. Ma che c'è sortita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.